Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come risolvere l'errore Roblox 262 quindi in questo caso in questo breve tutorial ti spiego come risolvere questo errore quindi prima di cominciare ti consiglio di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanellina ovviamente andiamo un attimo su Google Chrome, sui tre puntini, vai su impostazioni, ti porterà su questa pagina andiamo un attimo su privacy e sicurezza, andiamo nei cookie e altri dati dei siti scendiamo fino a giù fino a trovare, visualizza tutte le autorizzazioni, i dati dei siti e andiamo a cercare Roblox e cancelliamo roblox.com chiudiamo un attimo qua andiamo direttamente nella cartella facciamo esegui, quindi puoi anche scrivere qua sopra esegui, apri questa schedina e scrivi per cento tempo per cento, fai ok cancelli tutte queste cartelle ma se c'è anche la cartella Roblox tu elimina la cartella Roblox eccola qua quindi in questo caso se vuoi fare una bella pulizia fai CTRL A se no elimina solamente la cartella Roblox e ovviamente faccio tutto ok, una volta completato questo passaggio andiamo direttamente su Rowshade Launcher oppure se c'è Roblox sul vostro desktop cliccate tasto destro sopra mostra la tropezione proprietà andiamo sulla compatibilità ovviamente Rowshade non lo tiene quindi andiamo a cercare Roblox ecco Roblox Player questo qua proprietà come puoi vedere c'è la compatibilità esegui questo programma come amministratore disabilito, ottimizzazioni, schermo intero e fai app se in questo caso non dovesse funzionare quest'altro passaggio ti consiglio di fare di disinstallare direttamente il launcher e direttamente Roblox quindi disinstalli e reinstalli l'applicazione andiamo su applicazioni cerchiamo Roblox eccolo qua facciamo disinstalla ok ritorniamo su Chrome scriviamo Roblox accediamo con le nostre credenziali andiamo su inizio sulla casetta clicca un gioco qualsiasi di Roblox clicca play e da qui in poi potrai scaricare e installare il tuo Roblox e fare l'accesso se ti è stato utilissimo questo tutorial lascia like se hai problemi commenta iscriviti e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial ciao